Era semplice renderlo un ragazzino felice, bastava mettergli un padone tra i piedi, rincorreva quel pallone con la sua inseparabile maglia numero 10, correva ed inseguiva il suo grande sogno, quello comune a tanti ragazzi della sua età, diventare un calciatore professionista. Aveva 15 anni Ruggero Napoletano, trequartista di grande talento che giocava nelle medaglie d'oro, società di calcio giovanile barlettana e con quella maglia numero 10, come testimoniano queste immagini, aveva partecipato di recente a di nuovo al torneo intitolato alla memoria di Ale e Enrici, i due giovani calciatori della Juventus scomparsi tragicamente nel 2006 nello stesso centro sportivo bianconero. Ruggerino era un ragazzo pieno di vita sino ad una settimana fa, poi un aneurisma cerebrale pare determinato da una malformazione congenica gli ha impedito di rincorrere quel pallone e il suo grande sogno è dopo sei giorni trascorsi agli ospedali riuniti di Foggia nel reparto di rianimazione. Ieri il suo cuore ha smesso definitivamente di battere almeno nel suo corpicino. I genitori, papà Massimo e mamma Nunzia hanno autorizzato infatti la donazione degli organi. La procedura di espianto è avvenuta durante la scorsa notte, sempre a Foggia, un gesto di enorme generosità nel momento più complicato della loro esistenza che regalerà una speranza. A chi ne ha bisogno il pallone non rotolerà mai più tra i piedi di Ruggerino. Il suo cuore, quello di un ragazzino semplice ed educato, innamorato del pallone, continuerà a battere altrove.